E allora buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti, mi raccomando iscrivetevi a questo canale se non siete già iscretti, 2000 like, 2000 like facili, mi raccomando guardate i video fatti oggi con Contel Tottenham, il commento di Milan-Roma dell'altro giorno, recuperate tutto. Domani vi invito a guardare dalle ore 21.30 sul canale del Monarca Nerazzurro, ci sarà una live pre-derby con il Bruni e il Monarca, quindi se siete interessati appuntamento imperdibile e scaricate l'app di fan rating che vi lascio in descrizione, che vi permette di dare i voti post parta ai giocatori, campionato, scaricatela tutti, devastate mi raccomando. Allora, Milan-Porto, Milan-Porto, è anche un commento onestamente che non è che mi risulta poi così semplice, immediato e lineare fare, perché? Perché io vi ho già espresso quella che è un po' la mia teoria del complotto sulla Champions del Milan, l'abbiamo esposta in quel famoso video col Valeriani, cioè che io penso un po' dal sorteggio e un po' come è andato il percorso nelle prime due gare, specialmente la seconda, non vedo un Milan che si ammazza, mettiamola così, per star lì a recuperare energie, recuperare i punti, essendo sempre la Champions, quindi un qualcosa di importante, un qualcosa che anche a livello economico è importante fare in modo dignitoso, si cerca di mandarla avanti, però non credo che le speranze e gli auspici siano molti da parte del Milan di passare il girone. Questo si è visto parzialmente nella formazione messa in campo, perché al di là del turnover verso il derby, però quantomeno significa che alcuni li tieni in caldo per una partita che comprensibilmente li tieni più importante, ma per esempio che sì, non c'era entrato dopo, Kier non c'era, Ibraimovic fuori, quindi una formazione già abbastanza rimaneggiata, rimaneggiata, già abbastanza pupeggiata, già abbastanza indebolita e nel primo tempo si è proprio visto questo, cioè tra la formazione rimaneggiata e tra soprattutto un modo di stare in campo che vedevi, un Milan che non dico che non si impegnava, però non aveva quel fuoco, quella determinazione, quella concentrazione, quella lucidità che gli vedi mettere in campionato e non a caso ho visto molti giocatori su tutti, Teo Hernandez e Seilemaker al netto del fatto che abbiano fatto bene o male, ma ho visto in diversi giocatori un po' di venezianismi, cioè il tentativo di giocare da soli, non da squadra, il Milan che vedi in campionato è una squadra che risalta per concentrazione, per spirito di squadra, anche per altruismo nella manovra, qui vedevi tanti giocatori che invece facevano quel tocchettino in più, quel passetto in più su tutti Teo Hernandez, no? E il primo tempo è andato via così, con di fronte un porto, un porto forte, un porto che sembrava il Milan versione campionato con tanta qualità, organizzazione, pressing, intensità, ripartenze veloci, organizzazione sui fuorigiochi, veramente un'ottima squadra, io ho fatto la provocazione nel pomeriggio, sarebbe il Milan può mettere in campo la primavera in queste partite che restano, perché io personalmente, ripeto, ci credo poco, già vincendo oggi sarebbe stata dura perché adesso c'hai il Liverpool, c'hai l'Atletico e il pari serve poco anche al porto, è un risultato che serve poco ad entrambe le squadre, al porto può far più comodo perché comunque è un pareggio fuori casa che quasi lascia fuori il Milan, però è un risultato che alla fine non serve a nessuno ed è una partita in cui il Milan l'ho visto, ho visto un buon Milan, non un ottimo Milan stile contro la Roma, stile altre partite e via dicendo, ho visto un Milan discreto, mettiamola così, solo da inizio secondo tempo fino alla fine a fasi alterne, però diciamo che il miglior Milan di questa partita l'ho visto a cavallo tra il 45esimo e il 70esimo circa, poi ha fatto anche gol poi il Milan in questo lasso di tempo, ho visto una squadra che vuoi per la stanchezza un po' del porto, vuoi per l'inerzia della partita, ha provato a rimetterla, ma più che a rimetterla in sesto, diciamo ha provato a fare il suo, ha provato a vedere se la partita offriva qualche chance, ha provato a vedere se la stanchezza del porto senza ammazzarsi troppo consentiva di fare qualcosina in più, però voglio dire è un Milan quasi ingiudicabile questo che abbiamo visto in Champions, anche il sorteggio può ricordare l'Inter di Spalletti l'ultimo anno quando fece la Champions col Tottenham, PSV e Barcellona, ma lì bene o male era un girone che per un motivo o per l'altro rimase aperto fino alla fine, quindi vedevi anche un Inter diverso, un Inter più sul pezzo, qui ho un Milan che sinceramente vede la competizione in modo secondo me abbastanza distaccato, realista poi no? e alla fine ridò ancora fiato alla mia teoria del complotto che non convenga al Milan stare fuori da tutte le competizioni e concentrarsi sul campionato un po' come fece l'Inter l'anno scorso che non andò neanche in Europa League, il Milan era in Europa League, l'Inter non ci andò, questo gli ha permesso di avere un impegno a settimana sostanzialmente che poi è una cosa che ti aiuta. Sono brutti discorsi, cioè nel senso ovvio che uno si impegna, mi immagino il Valeriani, no? Ovvio che uno si impegna a far sì che la squadra passi, però vi ripeto è molta la differenza a livello di approccio, di arrivo, di concentrazione, di fiducia, di organizzazione che vedi nel Milan in campionato e il Milan che vedi in Europa. Io non vedo quasi la stessa squadra e non la vedi neanche a livello di formazione, spesso non la vedi, perché secondo me se uno punta veramente alla competizione, se uno ci crede dopo la partita di Roma mette in campo Kier dall'inizio, per esempio anche per dare un segnale ai tuoi giocatori e alla squadra opposta, se ci credi fai giocare Ibrahimovic dall'inizio e non Giroud, se ci credi che si va in campo tutta la vita. Quindi sì, non è che mi ritorni molto questa gestione del Milan, poi ho visto anche un Porto che nel doppio confronto si è dimostrato superiore, perché è una squadra organizzata, una squadra anche esperta, che mescola dinamismo a qualità, è una bella realtà, è una bella realtà, anche lei ha avuto la sfiga del sorteggio delicato, però è una squadra che l'anno scorso ha eliminato la Juve ed è arrivata ai quarti di Champions, c'è dei bei giocatori, anche il colombiano che ha giocato oggi, lo stesso Taremi, ha gente veramente di qualità e vediamo questa riforma della Champions, vi ripeto come sarà, perché spesso sentiamo fare riforme roboanti di gente che deve cambiare campionati, che cambiano numero di squadre, Superlega e via dicendo, c'è una Champions League allo stesso formato dal 2004, quindi anche diciamo per vivacizzare un attimo non sarebbe male vedere una Champions un po' diversa, vedremo l'anno prossimo e degli anni dopo come sarà, quindi questo dico sostanzialmente, un Milan buono solo per la prima parte, per la prima metà di secondo tempo, una formazione molto discutibile, perché ci sono stati dei cambi anche in funzione del derby, non vedo un Milan concentrato sulla Champions, non vedo un Milan che ha sputato sangue sulla Champions, vedo un Milan che ha preso l'impegno un po' come una sorta di dobbiamo, facciamolo, scendiamo in campo e vediamo quel che arriva, questo secondo me è stato un po' lo spirito che tutto sommato ha spinto, una sorta di allenamento di prestigio, commentiamolo così. Allora vado con i voti, Tataru Sanu ha fatto un rinvio sbilenco, però ha fatto anche delle ottime parate, sta facendo bene, io gli do un 6 più a conferma, perché c'è, è presente. Calabria, non mi è più, anche lui oggi, proprio tutt'altra partita, per esempio rispetto a Roma, piuttosto in difficoltà, ad inizio gara gli do dal 5 al 6. Tomori voto luci e ombre, begli anticipi, buona velocità, ma a volte un po' di sufficienza, non neanche lui, né Calabria né Tomori, li ho visti in classica versione campionato, onestamente, quindi gli do 6 meno, anche a Romagnoli confermerai il 6, anzi lui sarebbe dal 5 al 6, perché il primo tempo ha sofferto molto. Ternandez, croce delizia, un po' troppo veneziano oggi, c'erano delle situazioni di gioco, anche in ripartenza, nello sradicare palloni, in cui lui si vedeva che voleva correre per accendere il pubblico, per far quasi vedere che lui è un giocatore da questi livelli, per risaltare singolarmente, ok? A volte ha ecceduto in sta cosa, poi la qualità, la corsa non si discutono, però io gli do 6 generalmente, però diciamo che un Ternandez in un'altra situazione magari si sarebbe incapponito meno e si sarebbe messo più al servizio di una squadra funzionante meglio, mettiamola così. Tonali è uno dei più positivi, gli do 6 più, Benasser male il primo tempo, poi è venuto fuori alla distanza, però può fare meglio, gli do 6 meno, Selemaker non mi è piaciuto, e in generale diciamo che non è che mi sta entusiasmando il Selemaker delle ultime partite del Milan, per lui vale anche in campionato, Dave un po' secondo me non è che mi sta entusiasmando, è uno dei pochi, pochissimi giocatori del Milan che nell'ultimo periodo non è che mi stia entusiasmando, dal 5 al 6, Brahim Diaz gli do, ma non è che si è visto tantissimo, però era rientro, gli do 6, Leao un po' impreciso, gli ho visto fare meglio, però gli do 6 per l'impegno e la presenza, Giroud 6 perché ha fatto poco, molto poco, però nel gol ci ha messo il suo, quindi gli do 6, Ibrahimovic 6 più, comunque per l'impegno come entrato, Calulu ecco, forse Calulu è più positivo, 6 e mezzo, ruolo determinante del gol, impegno, buona partita, Maldini senza voto, Krunic 6, che si voto 6 più, voto a Pioli, io gli do un 6, un 6 politicissimo, 6 politicissimo, ditemi cosa ne pensate, un caro saluto.